Gli straordinari delle forze dell'ordine impegnate negli stadi devono essere pagati dalle società di calcio, non dai cittadini. La proposta, via Twitter, arriva direttamente dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nelle ore in cui si discute il decreto legge contro la violenza negli stadi. Decreto che, dopo la fiducia alla Camera, dovrà passare al Senato ed essere convertito entro il 21 ottobre e che sta creando non poche polemiche. Il testo, infatti, prevede che gli straordinari delle forze dell'ordine impegnate allo stadio vengano pagati dai club con un prelievo dall'1 al 3% sugli incassi al botteghino. E se da un lato le leghe calcistiche, dall'A alla ex Serie C, sono pronte alla battaglia, dall'altro canto la proposta raccoglie consensi fra i sindacati di polizia, anche a Como, dove è ancora fresco il ricordo degli ultimi scontri fra ultra e forze dell'ordine in occasione dell'amichevole con l'Inter. Se una misura del genere può ridurre la spesa dello Stato e se questo risparmio viene reinvestito nella sicurezza, siamo più che favorevoli, spiega Ernesto Molteni, segretario cittadino del SAP. Speriamo che, dalle parole si passi ai fatti, continua Molteni che, con scetticismo, conclude. Sentiamo parlare di questi temi da anni, ma finora non è cambiato nulla. Sarebbe una vittoria storica, aggiunge Paolo Tabacco, segretario comasco del SIULP. Le partite di calcio, in fin dei conti, sono eventi privati, ma l'impiego di agenti per queste manifestazioni è così elevato che non è giusto far ricadere questi costi sulla spesa pubblica. È giusto, conclude, che ognuno contribuisca secondo le sue possibilità. È un primo passo positivo, gli fa eco Robes Ivan Roncolato, segretario del SIULP di Como. Da anni, aggiunge, chiediamo una diversa gestione economica della sicurezza negli stadi. Ovviamente, la proposta va modulata, spiega, perché sappiamo bene che l'impiego dei poliziotti, conclude, è diverso a seconda delle città e degli stadi. Dunque, coro un anime di SI da parte dei sindacati di polizia. Altrettanto compatto, ma di parere opposto, il mondo del calcio. Dalla Serie A alla Lega Pro, tutti chiedono un confronto sul tema e non mancano le provocazioni. Vogliamo un calcio a porte chiuse? Si chiede il presidente di Lega Pro, Mario Macalli, che aggiunge. È troppo facile attaccare il calcio, dimenticando il contributo economico che ha dato allo Stato in tutti questi anni, senza mai ricevere nulla, nemmeno un euro, a fronte di un miliardo all'anno di imposte. Il calcio non nuota nell'oro, continua Macalli. Le società, precisa infine, pagano già gli steward per la sicurezza all'interno degli stadi.